Allora ragazzi, è impazzata la mania di parlare del contratto di Florenzi Ho visto parecchie video su Youtube A Radio Romane completamente si parla solamente di Florenzi Riguardo di Florenzi bisogna fare dei ragionamenti molto molto chiari e molto semplici Innanzitutto la stagione che è finita sicuramente non è la stagione migliore di Florenzi Inutile girarci intorno ragazzi Prima delle fortune Florenzi aveva fatto stagioni molto 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 migliori E aveva rubato l'occhio ragazzi Si parlava addirittura di Barcellona all'epoca Era un terzino sicuramente moderno Con difficoltà nella fase di invenzione Ma in fase offensiva molto molto pericoloso Quest'anno sicuramente ha fatto una stagione da 6 Diciamo una stagione da 6 Perché ne ha giocate parecchie di partite Però non è stato convincente in molte Non ha sicuramente avuto dei colpi vincenti Ha segnato pochi gol rispetto agli anni passati Potrebbe esserci una giustificazione Riferita appunto al doppio infortunio che lui ha subito l'anno scorso Due volte il crociato riprendersi è molto complicato Quindi sicuramente questo è un punto a suo favore Dall'altro lato c'è chi potrebbe dire che comunque la Roma Gli ha pagato lo stipendio anche quando lui era affortunato E sicuramente non è colpa della Roma che lui sia affortunato Quindi le pretese contrattuali in questo caso dovrebbero essere minori Si è parlato di questi fantomatici 4 milioni di euro che lui ha chiesto Sinceramente ragazzi spero che voi abbiate la capacità di non prendere per buone tutte le notizie che stanno sui giornali Perché i giornalisti ragazzi sono delle persone che come noi hanno bisogno di lavorare E per lavorare bisogna anche prendere magari delle istruzioni e delle direttive da parte di qualcuno Che ti paga o che finanzia il giornale Quindi quando leggete di offerte, di contratti rinnovati, di pretese contrattuali Non prendetele per buone perché se le trattative sono riservate non vedo come queste possono andare sul giornale A meno che qualcuno non ha appunto interesse a far travelare qualche notizia A far mettere diciamo l'opinione pubblica contro un calciatore Adesso Florenzi merita 4 milioni di euro? Secondo me 4 milioni di euro netti non li merita ma non li merita perché sta in una fase della carriera In cui noi non sappiamo se tornerà a quello di prima Se si fa una valutazione sul calciatore che era prima dell'infortunio 4 milioni di euro secondo me se li poteva tranquillamente meritare Perché era un calciatore veramente brillante Però quest'anno ragazzi sotto gli occhi di tutti è fatta una stagione mediocre Quindi secondo me la valutazione corretta è su un 3 milioni netti Perché se è vero che da una parte lui non è prettamente un terzino L'anno prossimo potrebbe rischiare addirittura di non avere un ruolo da titolare C'è anche da considerare che è un calciatore che ti copre molti ruoli in campo Ti mette una pezza quando serve È un calciatore che comunque ha una qualità nei piedi E ragazzi non possiamo dire che il Florenzi non ha qualità nei piedi Perché ce l'ha fatto dei gol pazzeschi in passato E quei gol pazzeschi non li fai se tu non hai la capacità nei piedi Ecco secondo me un 3 milioni netti Il Florenzi se li merita ci vogliamo mettere più bonus Questa è la valutazione corretta L'unica appunto che vorrei fare a Florenzi è di tornare ad avere un'umiltà L'umiltà che l'aveva contraddistinto nelle prime stagioni a Roma Se molti tifosi fanno questo appunto evidentemente è vero Si intravede nel suo modo di stare in campo Nella disponibilità dei compagni Nel modo di lamentarsi con i compagni A inizio carriera con la Roma lui era stato amato Proprio perché aveva questo carattere Genuino, semplice Sicuramente poco aggressivo Questa cosa qui lui l'ha persa Quindi spero che Florenzi torni ad essere un po' più umile Ma sicuramente spero anche che lui rimanga nella Roma Perché è un calciatore di cui la Roma ha bisogno È un calciatore di qualità Sicuramente se la Roma deve fare degli investimenti E delle gestioni Non è da Florenzi che si deve partire Ragazzi questo qua è il mio pensiero Fatemi sapere voi che cosa ne pensate su Florenzi Sono molto interessato perché ho sentito sulle radio Molti, molti, molti contro Florenzi Quindi vorrei sapere anche voi che cosa ne pensate Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un bel fantastico like Ma perché no anche di condividerlo Proprio qua Esagerate di condividerlo Mettete un dislike se il video non vi è piaciuto Vi ricordo comunque sia di iscrivervi al canale Perché ci saranno molti, molti altri fantastici video Che arriveranno tra poco Quindi vi ringrazio Ciao Tattico E ciao a tutti quanti Al prossimo video Ciao